Multato a Napoli per aver parcheggiato l'auto sul marciapiede. Peccato che il signor Danilo Cestaro in quel momento fosse a Marghera al centro commerciale a fare compere. Stavo facendo spese ed ero documentato per fortuna, in quanto avevo partito a IVA dovevo documentare le mie spese, con tanto di tessera personale, magnetica personale, o la fattura, quindi la documentazione per il commercialista. E proprio questa documentazione permetterà al signor Cestaro di vedere annullata la contravvenzione da quasi 80 euro. Almeno è quello che spera. Sì, perché l'odissea burocratica che sta affrontando ha dell'incredibile. Nel verbale della polizia locale partenopea non è segnato nemmeno il modello di macchina. Cestaro allora, pensando di risolvere la questione velocemente, invia una raccomandata al comune di Napoli, evidenziando l'errore e soprattutto la compilazione sbagliata del verbale, allegando la documentazione che lo discolpa. Mi hanno risposto a distanza di quasi un mese che la compilazione del verbale era fatta bene e che non c'era nessun motivo per annullarmi l'inflazione. Cestaro si è rivolto all'adico. L'unica possibilità per avere giustizia ora è di rivolgersi al prefetto, spendendo naturalmente. Dovrò fare ricorso al prefetto perché ormai sono passati i 30 giorni per il ricorso al giudizio di pace, dopodiché se il prefetto l'accetta bene, altrimenti dovrò ricorrere al giudizio di pace, il quale per territorio dovrò andare a Napoli e quindi con tutte le spese e le conseguenze del disagio che provo. Qualcosa che non risponde poi a un fatto successo. Sono sempre più frequenti i casi di persone multate in altre città, senza esserci mai stati. Nel veneziano almeno un centinaio i casi. Nel veneziano almeno un centinaio i casi. Nel veneziano almeno un centinaio i casi.